Vi auguro una dolce giornata. Il messaggio di oggi è felice e contento. Un risultato positivo è assicurato. Lascia andare ogni ansia e confida che tutto alla fine si risolverà. Questa carta ti rassicura segnalandoti che il film di cui sei protagonista in questo momento avrà un lieto fine. Le situazioni che sembrano difficili si risolvono con facilità. I malintesi sono dimenticati. Gli errori perdonati. Sei invitato a smettere di preoccuparti per il futuro perché le paure potrebbero concretizzarsi in maniera negativa. Potresti letteralmente sabotare i felici piani che il cielo ha in serbo per te. Se ti preoccupi eccessivamente, quindi esci all'aperto nella natura e chiedi alle fatti di aiutarti a gioire della perfezione del creato. La gioia rinvigorisce la fiducia e assicura il risultato felice che è in programma per te. Altre affermazioni di questa carta sono ogni cosa è in ordine divino e perfetto proprio adesso. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.